La provincia di Teramo sta cercando di trovare una soluzione alla cronica problematica della carenza di spazi per le scuole superiori. Per questo, come annunciato nei giorni scorsi, l'ente ha pubblicato l'avviso per la ricerca di uno stabile che possa ospitare 15 aule ordinarie, 5 aule di servizio e oltre 900 metri quadrati da destinare a laboratori e aule speciali, con un contratto di locazione fino al 2026. I primi a usufruirne saranno come facilmente prevedibile gli studenti dell'Epsia Marino di Teramo, attualmente dislocati in vari istituti dopo la dichiarata nel 2016 inagibilità della scuola di Via San Marino per vulnerabilità sismica, un argomento quello degli spazi trattato durante il tavolo tecnico interistituzionale per la concentrazione del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e l'ampliamento dell'offerta formativa nell'anno scolastico 2021-2022. incontro con gli agenti scolastici, con i responsabili comunali per parlare del dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2021-2022. Noi come provincia chiederemo, per quanto riguarda alcune scuole, di proseguire con la reggenza, perché crediamo che queste scuole abbiano la forza e la capacità di poter tornare almeno ai numeri minimi per ottenere una presidenza. Abbiamo dato a tutti negli anni una possibilità e lo chiederemo anche quest'anno all'ufficio scolastico e ai dirigenti, insomma, di dare una possibilità a queste scuole di poter tornare ad avere una presidenza. Per quanto riguarda il marino, invece, stiamo, come dicevo poco fa, mantenendo gli impegni presi durante l'ultima manifestazione fatta dagli studenti e dai docenti qui sotto la provincia. Noi li ho accolti quella mattina in maniera educata e tranquilla, così come loro hanno manifestato la loro protesta. E, promettendo a loro una soluzione, noi abbiamo questa settimana pubblicato il bando per la manifestazione di interesse per trovare una nuova sede al marino. Questo in funzione sempre della ricostruzione, perché quella scuola andrà demolita, ricostruita, o perlomeno andrà comunque, saranno ancora comunque fatti dei lavori per la messa in sicurezza e quindi i ragazzi non potranno soffrirne almeno per i prossimi tre anni. Abbiamo fatto questo bando per prendere una decisione molto forte, anche perché questa struttura potrà servire anche per il tetris della ricostruzione delle altre scuole terramane. Una volta sistemato il marino dovremo anche poi pensare alla demolizione e ricostruzione del Montauti, dove siamo andati già al bando della progettazione, così come il comi secondario. Quindi avremo bisogno di altri loro spazi e questa scuola potrebbe essere la struttura giolli per sistemare i ragazzi, per non crearli disagio e per comunque provvedere nel più breve tempo possibile la ricostruzione delle scuole terramane.